Spesso ci scordiamo che le variazioni di bilanci, i bilanci stessi, i piani regionali di sviluppo, sono tutti istanzialmente che derivano dai soldi dei cittadini. Ricordo che anche da un ultimo studio della CNA, per esempio la città di Firenze è la quarta città in Italia insieme a Catania per pressione fiscale, 68,5%. E ci scordiamo che questi soldi non sono dei partiti che vincono le elezioni, ma sono dei cittadini lavoratori che con il loro sudore, con il loro lavoro, finanziano anche queste scelte nefaste. E quindi entro nel merito anche del mio intervento. Mi chiedo, ma come vengono spesi questi soldi? I soldi pubblici, i soldi dei cittadini, sono spesi come farebbe un buon padre di famiglia? Sono spesi secondo una sana e prudente gestione delle risorse pubbliche? Secondo noi no. No. È una sana e prudente gestione delle risorse pubbliche per severare con la grande opera del sottottraversamento della TAV di Firenze, 700 milioni di euro, inchieste delle procure, meno dell'8% dell'opera realizzata. No. Non è una sana e prudente gestione delle risorse pubbliche. È una sana e prudente gestione delle risorse pubbliche spendere i soldi per un istituto degli innocenti oggetto da due inchieste della procura? No. Non è una sana e prudente gestione delle risorse pubbliche. È una sana e prudente gestione delle risorse? Continuare a perseverare con l'opera voluta da Renzi e dall'aeroporto? No. Non è una sana e prudente gestione pubbliche. Tra l'altro oggi mi date l'occasione con il vostro emendamento di parlare di una cosa interessantissima. C'ho questo accento perché vengo da Palermo e mi è rimasto l'accento siciliano. Nel 2005 è stato sottoscritto un accordo tra comuni di Pisa, San Giuliano Terme e la regione toscana dove si parlava dell'emergenza occupazionale della costa. Ricordo la collega della Lega che probabilmente non studia che anche l'IRPET, il nostro istituto, ci dice che abbiamo meno 18 mila lavoratori nella costa. Meno 18 mila lavoratori. Non so se ci rendiamo conto dell'emergenza occupazionale di una provincia come Massacarrara, tra le più povere province d'Italia, zone come Grossetano che non sanno dove sbattere la testa. Allora, questo accordo di programma del 2005 diceva cose antistoriche. Voi, anche persone sedute in quegli scranni, hanno sottoscritto questo accordo di programma che si parlava di valorizzare l'aeroporto di Pisa, valorizzare la tratta Pisa-Firenze, valorizzare la costa. Che cosa avete fatto in dieci anni? Zero. Zero. Siete voi gli amministratori locali, ovunque avete amministrato questa regione da sempre e questi sono i risultati. Paghiamo le scelte sbagliate del partito democratico. Questa è la verità, signori. Mettetevelo in testa. Allora, è una sana e prudente gestione dare 5 milioni di euro alla laguna di Orbetello? Erano nati i stanziamenti per gestire in modo straordinario e emergenziale. Dopo 5 anni siamo qua a dare ulteriori 2 milioni di euro senza sapere quale fine sarà dei soldi dei cittadini. Per non parlare della probabile infrazione europea sull'interporto Vespucci, nato con i soldi nostri dei cittadini attraverso l'Europa che la finanzia con finalità logistiche, esclusivamente logistiche, e qualcuno degli amministratori del PD voleva dargli anche un'ulteriore destinazione, in contrasto con le finalità europee attraverso i quali ha preso i soldi. Vogliamo parlare dell'opera incompiute, quale l'Empoli-Castelfiorentino, la Siena-Svincolo-Monteroni-Darbia, la variante di San Gimignano? Vogliamo parlare dei soldi non riscossi col demagno idrico che abbiamo scoperto grazie all'intervento del Movimento 5 Stelle? Ma di che cosa stiamo parlando? D'accordo, leviamo gli enti pubblici. Via gli enti pubblici. Deve pagare chi ci fa profitto con l'acqua pubblica. Giusto? Ad oggi non sappiamo chi deve dare cosa. Non abbiamo un'idea dell'elenco puntuale. Stiamo nel 2016. Ragazzi, è questa una sana e prudente gestione delle risorse pubbliche? No. È sana e prudente gestione delle risorse pubbliche destinare soldi per l'ampliamento del porto di Marina di Carrara, perché di questo si sta parlando, signori. Noi siamo a favore della riqualificazione urbanistica del porto. C'è bisogno di mettere del verde, di fare una pista ciclabile. Dobbiamo investire sulla riqualificazione dell'interfaccia porto-città, ma siamo contrari a fare opere di ampliamento del porto a mare, come potrebbe essere un ampliamento della stessa focia del Carrione. Perché nel lotto previsto che oggi andiamo a finanziare, si parla anche di un pennello a mare che andrebbe a spostare la focia del Carrione e quindi, dimostrato scientificamente, a creare anche erosione costiera. Tutti i campeggiatori, i settori del turismo lanciano un grido d'allarme, ma il PD è sordo, è sordo ai settori produttivi della nostra regione. Spendiamo ogni anno 115 milioni di euro per risolvere il problema dell'erosione costiera che il PD alimenta ogni anno con queste scelte nefaste. Grazie.